Si chiamano boschi per il futuro. Semi raccolti in tutta Italia daranno vita in Veneto, Abruzzo e Lazio a tre nuovi boschi pensati per produrre sementi per piante che dovrebbero essere in grado di affrontare la crisi climatica. Piante della stessa specie proveniente da zone diverse si potranno incrociare, mischiare i loro DNA. L'alboretto da semi è fatto proprio per questo, in modo da conferire ai semi che queste piante produrranno, ad esempio le ghiande nel caso di una quercia, conferire a questi semi la massima variabilità genetica che è la miglior garanzia, questa diversità, contro le incognite che questo futuro climatico si riserva. Un'operazione che nasce dalla collaborazione pubblico-privato. Come tutti sappiamo il benessere di noi dipende anche da alimentazione, quindi come si cucina è l'importante scegliere gli ingredienti giusti così un'azienda alimentare ha il dovere di curare il mondo in cui crescono le nostre materie prime. Ripristinare i boschi e più in generale gli habitat naturali, di cui i boschi sono parte, è a tutti gli effetti un investimento economico. I sistemi naturali vanno protetti e conservati non soltanto perché sono belli, ma perché sono utili. Liberano tutta una serie di servizi ecosistemici che non potremmo nemmeno elencare adesso, quindi fondamentalmente vanno protetti perché migliorano la nostra qualità della vita. Ispra, nel suo ultimo rapporto sul consumo del suolo, ha calcolato che in Italia lo smantellamento di habitat naturali ci costerà 9 miliardi l'anno, più di un terzo della manovra economica.